Dopo quasi due anni è tornata a riunirsi in presenza l'Assemblea dei rappresentanti delle ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, delle quattro regioni colpite dal sisma del centro Italia, con il commissario straordinario per la ricostruzione 2016-2017 Giovanni Legnini. L'incontro, che si è svolto nei giorni scorsi a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, è stato l'occasione per fare il punto della situazione sul fronte della ricostruzione e del relativo cambio di passo, avviato con l'approvazione dell'ordinanza 100, che ha modificato radicalmente le procedure per l'ottenimento dei contributi, semplificando le pratiche per i 138 comuni colpiti dal terremoto nel cratere sismico delle quattro regioni. Abbiamo fatto il punto su tutto lo stato della ricostruzione, in questa complessa governanza, su tre livelli, quella centrale, nazionale, rappresentata dal commissario, i presidenti delle regioni e i sindaci, abbiamo registrato gli avanzamenti della ricostruzione privata e significativi miglioramenti anche su quella pubblica e fatto il punto sulle preoccupazioni. Nei primi cinque mesi del 2021 abbiamo concesso contributi a 3.000 cittadini o imprese, per 3.000 cantieri che o sono aperti o stanno per aprire. In Abruzzo abbiamo 3.525 domande presentate, 918 accolte, 373 cantieri conclusi. Si tratta di dati di un certo interesse, di un certo rilievo, peraltro l'Abruzzo è la regione che segna la performance in aumento migliore, anche non solo per il fatto che partiva da una situazione di difficoltà che è nota a tutti. Quindi la ricostruzione è entrata in una fase matura. Certo, ciò che c'è da fare è molto di più di ciò che è stato fatto, ma questo è chiaro a tutti. La riforma, le innovazioni, delle procedure, la semplificazione sta dando risultati. Ci sono delle problematiche che avete registrato in particolare, si parlava anche dell'aumento dei prezzi, anche delle materie prime, che potrebbe mettere in difficoltà i cantieri? Si è verificato che proprio la concentrazione dei cantieri, ma anche gli impegni ulteriori che stiamo assumendo, questa concentrazione sta creando una tensione, innanzitutto sul mercato delle materie prime. È un tema che le imprese ci hanno sottoposto, i progettisti, il governo credo che varerà un provvedimento. Io ho interlocuito con il Ministero delle Infrastrutture per cercare di sollecitare un'attenzione anche per la ricostruzione. Il fatto che stia prendendo corpo anche l'attività sul 110%, a sua volta contribuisce a una situazione del mercato dell'edilizia che è molto in movimento e questo crea tensione di mercato. Grazie a tutti.